Questo sarà sicuramente il decimo video che vedrai sulla Sony A7IV Sì, il decimo e non il nono, l'undicesimo semplicemente perché era un numero che mi è venuto in mente Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video Ed oggi voglio parlarvi, anche io, di quelle che sono le mie impressioni su questa Sony A7IV Sony con l'A7III, quindi la Sony A7III, ha impostato il mercato creando uno standard Ed evidentemente l'attesa era talmente spasmodica e talmente carica di aspettative Che Sony, proprio perché Sony voleva, sicuramente vorrà, creare un nuovo standard per il mercato delle mirrorless E lo fa con la sua Sony A7IV, presentata a ottobre 2021 Con delle caratteristiche che tutti quanti potevamo aspettarci E soprattutto con un concetto fondamentale, utile Questa camera è la sintesi giusta tra le top di gamma Nel questo caso specifico le top di gamma sono Sony Alpha 1 e Sony A7S III Dove prende il meglio delle caratteristiche dell'una e dell'altra E le mette insieme per creare, a detta di Sony, il corpo fotografico Il corpo mirrorless di partenza a livello base Ma anche se base non è Quindi, tablettino alla mano Andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche tecniche che mi hanno Le caratteristiche del corpo macchina che mi hanno fatto pensare E che potrebbero essere effettivamente un colpo di scena Che potrebbero essere quel qui di in più Che possono rendere questo corpo macchina Possa essere il corpo ideale un po' per tutti Partiamo dal presupposto che tutti gli utilizzatori di Sony A7III Hanno necessità di un svecchiamento del corpo È invecchiato bene Il corpo della Sony A7III è invecchiato molto bene Utilizzabilissimo ancora oggi Ma ci sono delle piccole cose che secondo me Potevano essere migliorate E queste cose sono state migliorate effettivamente con questo corpo macchina Come body, quindi come grandezza del corpo Siamo super giù lì Il corpo è molto simile Se non per qualche piccola chicca Che so che è sicuramente lo schermino finalmente ribaltabile E flippabile di 270 gradi Dico finalmente perché secondo me Sony si è lasciata intimorire nel passato Dall'architettura e dalla struttura di questo tipo di monitor Pensando che fosse più debole In realtà non è così Perché anche quelli che faceva lei Potevano avere i loro punti deboli E un'altra chicca invece che mi è piaciuta tantissimo Sta sul fatto di come hanno cambiato Il sistema di selezione Di passaggio tra la parte fotografica e la parte video Sembra una stupidaggine Ma questa cosa io l'ho provata su Fujifilm X-T4 Che ha il selettore per passare da modalità foto a modalità video E non dobbiamo per forza girare tutta la ghiera E diventa una cosa molto ma molto comoda Perché con uno switch si passa da una modalità ad un'altra E questa cosa la ritroviamo sul corpo macchina Sullo stesso corpo macchina Naturalmente come Sony A7S III Troviamo un bel pulsantino dedicato soltanto al rec video Quindi Sony adesso sa E ha ascoltato gli utenti Come già l'ha fatto per questi altri modelli E ha portato questa piccola miglioria Per rendere l'utilizzabilità sempre superiore Ma che cosa cambia sotto al cofano? Beh cambiano diverse cosucce Diciamo che assimila e prende tantissimo Come detto da Sony A1 e Sony A7S III Naturalmente non prende il sensore Ma prende tutto il contorno Quindi questa Sony A7 IV Prende il sistema di autofocus di A1 Prende quelli che sono Prende i processori per la lavorazione delle immagini E prende finalmente il menu di Sony A7S III Cosa che tutti quanti cercavano ed aspettavano Perché il menu Sony è sempre stato odiato ed amato Una volta imparato il primo menu Sony Diciamo che ci si riusciva a navigare Ma avendo provato la A7S III Il menu nuovo è tutta un'altra storia Quindi questo menu nuovo è stato finalmente implementato Ed è molto più gestibile Molto più semplice da interpretare Quindi da navigarci all'interno Ma veniamo a quelle che sono le specifiche chiave Che abbiamo sentito un po' tutti E letto un po' tutti sugli articoli Abbiamo un nuovo sensore Parliamo di un sensore da ben 33 megapixel Quindi facciamo uno scattone da 24 a 33 megapixel Dove ormai i 24 megapixel sono diventati uno standard Un po' per tutti Anche tutti i corpi APS-C che troviamo sul mercato Sono tutti quanti da 24 E per un APS-C 24 pollici Sono tanti, sono giusti secondo me Per una full frame andare un pochino oltre a 33 Ci si può arrivare Ricordo EOS R era a 33 megapixel Se non vado errato O 30 giù di lì o una cosa del genere Però poi sono tornati indietro con R6 Che è un pochino inferiore Il sensore è un pochino più piccolo Parliamo sempre di sensore full frame E io sono convinto che Sony ha fatto questo scatto Passare un sensore un pochino più grande Quindi con una densità maggiore di pixel Perché la tecnologia dietro ormai La lavorazione della conduttività Per le basse luci Per sostenere gli alti ISO Sta evolvendo ancora di più E Sony sappiamo che oggi è diventata Una pioniera su questo Sulla lavorazione, sulla creazione di sensori Che visiscono bene quelle che sono le basse luci Quindi probabilmente il fatto che siamo passati Ad un sensore molto più denso Non si troveranno i problemi Di avere molta più rumorosità Perché è proprio Sony è il leader Diventata leader in questo settore Nella gestione delle alte luci Delle basse luci, perdonate Troviamo anche un nuovo stabilizzatore A 5 assi Che ci consente di finalmente andare oltre i 3 stop Ma possiamo arrivare fino a 5,5 stop di recupero Parliamo di gamma dinamica Perché anche qui abbiamo ben 14 stop di gamma dinamica Che sono tanti E finalmente portano nel mondo fotografico Il formato IFA 10 bit Che è un formato che noi oggi conosciamo Perché lo abbiamo sull'iPhone Ed è una nuova tipologia di formato Che esiste ormai da diversi anni Un tipo di compressione Possiamo paragonare all'H.265 Per la fotografia Dove abbiamo molte più informazioni In un file comunque compresso Meglio del JPEG Dipende La lettura è un pochino più complessa Però parliamo comunque di fotografie E questo JPEG Questo IFA 10 bit Diventa Un'ottima misura di mezzo Tra il classico JPEG Che è un sampling a 8 bit E il file RAW Quindi può essere una giusta via di mezzo Molto interessante Abbiamo il sistema di autofocus dell'A1 Quindi un sistema molto performante Non voglio dilungarmi troppo Sugli aspetti proprio tecnici Perché non l'ho potuta provare Ma Per quello che già abbiamo visto Con Sony A7S III E con Sony A1 Beh possiamo aspettarci Di vedere un autofocus super performante Anche su questo corpo macchina Un'altra Io so che tutti quanti voi State aspettando che vi parli Della parte video Ma dovete attendere un pochino Anzi no Quasi quasi ne parliamo subito Con questa macchina Abbiamo una raffrica di 10 fotogrammi al secondo In RAW Un'ottima ottima cosa Ma parliamo Un attimo della parte video Quella che La ciccia che a noi interessa Parliamo di Che abbiamo un sensore Che riesce a restituirci A calcoli fatti Circa un 7K Di risoluzione video E con questo sensore Abbiamo un 4K Oversamplied Da 7K Abbiamo tantissime informazioni Molto cariche Dove riusciamo a prendere Un fotogramma 7K E comprimerlo in 4 E questa è una cosa Davvero fantastica Questo già è fatto Già l'ha fatto Per esempio Nella Sony A7III Perché passavamo Da un oversampling A 6K Se non vado errato Qui andiamo ancora di più Andiamo un tacchetto sopra E andiamo a 7K Questo perché? Proprio perché abbiamo Un sensore molto più densio Con molti più pixel Da poter utilizzare E finalmente abbiamo Il 10 bit in camera Come visto per Sony A7S III Abbiamo il 10 bit Video in camera Naturalmente non abbiamo Le stesse possibilità Di Sony A7S III E poi finalmente abbiamo Un 4K a 60 fotogrammi al secondo Anche in un corpo Sony Ma con una limitazione Che è quella Del sampling in APS-C Quindi il nostro sensore Verrà croppato in APS-C Per registrare in quella modalità Come ad esempio Già capita con La Lumix S5 di Panasonic Che ha lo stesso identico discorso Possiamo registrare In 4K a 60 Ma dobbiamo andare Il sensore verrà croppato In APS-C Quindi abbiamo questa funzione E poi abbiamo Le ultime due caratteristiche Che voglio segnalarvi Almeno in ambito video Che abbiamo Quindi L'H2S V In camera Perché per registrare In 10 bit Abbiamo il codec di Sony Che sostanzialmente Dietro porta il motore Dell'H2S V E prende Dalle sorelle maggiori Quindi la Sony A7S III E la Sony A1 Porta con sé Il profilo S-Cinetoon Che è il profilo Che troviamo S-Cinetoon Quindi la cinepresa Di casa Sony E chi è stato poi Portato all'interno Dei corpi mirrorless E adesso lo ritroviamo Anche Qui su QS-A7 IV È un profilo davvero Eccezionale Per lavorare Con Restituisce dei colori Della pelle fantastici Insomma È uno di quei profili Altamente professionali Che si è applicato Al mondo del videomaking Classico Può davvero svoltare Infatti Chi Utilizza Sony A7S III Di sicuro Già l'avrà provato E di sicuro Se ne sarà Già innamorato Ora Questo era Il riepilogo Veloce Di quelle che sono Le caratteristiche Di quel suo corpo macchina Di questa Sony A7 IV Che è appena Stata presentata Parliamo di pochi giorni fa E Dobbiamo ancora Realmente Testarla Provarla Averla tra le mani Per qualche settimana Per farci qualche Vera prova Vero test Qual è la mia opinione Su questo corpo macchina È un corpo macchina Che doveva uscire Ce lo aspettavamo già Un annetto fa Normalmente Sony ci ha abituato Che Tra un corpo E il suo successore Passano tra i 3 E i 4 anni Con questo Sono passati Se non mi ha derrato 5 anni Non vorrei sbagliarmi Però Passato un pochino Più di tempo Del dovuto Di sicuro Perché il mercato È molto Saturo Ormai Il mercato È tantissimo Saturo E Sony Voleva creare Quel corpo Giusto Che potesse essere Considerato Di partenza Per la sua L'app Ma che in realtà Di tanta partenza Non è Perché comunque Parliamo di un corpo Molto ma molto Completo E Con delle caratteristiche Professionali Che per i professioni Che fanno Go la professionista Anche se Una cosa che Leggevo Sulla pagina Di Sony Proprio in home Del prodotto Ben oltre le basi Vediamo se si legge Ben oltre le basi Per i creatori Di oggi Beh Quindi come Ci sono Altre case Che hanno pensato Di creare I corpi Full frame Di line up Base Per Anche I creator Perché oggi Purtroppo No purtroppo Oggi Uno dei mestieri È quello proprio Del creator Digitale Anche Sony Probabilmente Non lo dice Esplicitamente Perché ha creato La sua line up Per i digital creator E Vi dico Che Secondo me Vedremo una full frame Della serie ZV Sono sicurissimo Vedremo una Sony A7 III Impacchettata Una Sony A7C Impacchettata Per quel mondo lì Io ne sono Convintissimo Perché Sony Giustamente Come tutti gli altri Punta anche al mercato Dei creator E Una full frame Di entry level Che entry level Non è Fa di sicuro Gola per le sue caratteristiche Tecniche Davvero di tutto rispetto Luca tu la comprerai? Probabilmente no Perché sono Mi trovo bene Con quello che utilizzo Al momento Ma la proverò Questo sì Questo sicuramente Perché sono davvero Molto curioso Di vedere Sotto questo motore Questo nuovo sensore In realtà Io sono molto più curioso Del sensore Piuttosto che delle caratteristiche Perché Le caratteristiche Sono tutte quante Molto interessanti A proposito C'è una cosa Che è molto Ma ci sono due cose Molto Due chicche Molto particolari Di cui non vi ho parlato Aspettate che devo recuperarle Naturalmente Beh Oltre al fatto Che questa macchina Adesso ha la possibilità Di essere collegata Come webcam Direttamente Quindi senza dover passare Per nessun dungle Video In esterna La prima È la compensazione Del focus breathing In pratica È quell'effetto Che Quando si ha Un cambio di fuoco Anche su focale fissa Può capitare Che sembri Che ci sia Uno scatto di zoom Quando abbiamo Due piani Molto distanti Tra di loro Gli elementi ottici Fanno Un'escursione Molto più lunga Sembra che si muova Tutta l'immagine Beh Questa cosa Viene compensata Digitalmente Adesso E quindi Il passaggio Diventa Il passaggio Di messa a fuoco Diventa Molto più morbido E non abbiamo più Questo strano Effetto Scatto Che in realtà È una compensazione Ottica Quindi È una cosa Fisicamente naturale Però sono riusciti A compensarla In maniera digitale Un'altra cosa Interessante Intelligente Più interessante Questa in realtà È un'altra di quelle cose Realmente da provare È il Il nuovo sistema Di assistenza Al fuoco Io l'ho visto In un video Ed era davvero Fantastico In pratica Per farvi capire Il sistema di assistenza Al fuoco È quando La macchina Ci aiuta a capire Il punto di messa Dov'è il fuoco La cosa più Classica Che possiamo conoscere È il peaking Ossia il bordino Attorno all'oggetto Alle sagome Più contrastate Ebbene Oltre questo Altre case Hanno creato I loro Nel tempo Mi viene da pensare A Panasonic Che fa il suo Dove ci zoom Un riquadrino Oppure c'è Canon Che fa il quadratino A centro del fotogramma Con gli anelletti Che si uniscono E ho visto questo Che era davvero Molto interessante Perché in pratica Grazie Al processore Riesce a crearci Una visualizzazione Molto particolare Dove colora Crea dei Colora l'immagine E mette Il blu come sfondo Tutti gli elementi Che sono sul piano Posteriore Al punto di messa a fuoco Li colora di blu L'oggetto Lo colora di giallo Mentre le cose In primo piano Gli oggetti in primo piano Quindi il piano focale Davanti alla messa a fuoco Le colora di rosso E questa cosa Aiuta tantissimo A colpo d'occhio A capire Dove è la messa a fuoco Dove è il punto di messa a fuoco Dove è il piano Di messa a fuoco Questo perché Molte volte Anche col peaking In condizioni molto estreme Di luce molto estrema È difficile Riuscire a capire Per chi lavora Molto in manuale Mentre con questo sistema Diventa interessantissimo Perché hai dei colpi d'occhio Enormi Essendo molto colora Insomma Io vorrei fermarmi qui Perché Ci sarebbe tanto da raccontare Ma Sicuramente ci sono Tanti altri creator Che hanno avuto anche la possibilità Di poterla provare E io volevo soltanto Fare un riepilogo E darvi quelle che sono Le mie opinioni Secondo me È una macchina molto interessante Secondo me Va approvata E secondo me I possessori di 7.3 Professionisti Devono fare l'upgrade Questo sicuramente Perché Ci sono tante cose nuove Che possono realmente Dare la differenza Dai formati di registrazione Quando parliamo di formati di registrazione Significa anche che Pesano meno Anche se Aumentiamo il codec Cambiamo le impostazioni Però Se scattiamo in if Abbiamo dei file Meno pesanti del raw Ma più Più leggeri del raw Ma più pesanti del jpeg Quindi andiamo a compensare E possiamo Ragionare anche A un sistema di backup Differente Quindi ci sono tante cose Su di cui parlare Tanti motivi Per il quale Io farei l'upgrade Beh Voi fatemi sapere Cosa fareste voi Cosa farete voi Con questa Sony A7IV E cosa ne pensate Screndermi qui sotto Nei commenti E in conclusione Vi ricordo di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E di seguirmi su Instagram Per essere sempre aggiornati E seguirmi sulle fotografie E le stories Che pubblico Insomma Io vi ringrazio per la visione Noi ci vediamo Prossimamente Con un nuovo video Grazie a tutti Grazie.